Questo programma è presentato da Buonasera telespettatori di Telemia, benvenuto a un nuovo appuntamento del programma 60 News. L'argomento di stasera è l'anno giudiziario della Corte dei Conti. Ne parliamo con il dottor Michelo Oricchio, già magistrato ordinario ed assistente di studio alla Corte Costituzionale. Ricopre attualmente la carica di presidente di sezione della Corte dei Conti. Benvenuto dottore, grazie per aver accettato l'invito presso i nostri studio televisivi di Telemia. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sono davvero contento di poter rappresentare un po' la nostra giurisdizione, che non sembra adeguatamente conosciuta, per poter far comprendere a tutti i cittadini quale è la nostra funzione, quale ruolo possiamo svolgere, quali sono le difficoltà che incontriamo quotidianamente nell'esercizio delle nostre funzioni. Quindi sono io che vi ringrazio per l'invito che mi avete svolto. Grazie. Grazie a lei dottore. Lei ha infatti anche scritto un libro di recente, anzi uno dei tanti libri, che è la questione istituzionale nell'Italia delle nuove signorie. Eccolo qua, grazie alla regia che lo sta mostrando. Il volume è frutto di una trentennale esperienza dell'autore in varie magistrature. Si caratterizza per un aggiornamento e non convenzionale studio dei lineamenti fondamentali del sistema istituzionale italiano e dei suoi problemi prepotentemente emersi durante la gestione dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica conseguente alla pandemia di coronavirus, che ha caratterizzato l'intero 2020. La principale causa della criticità che connotano e condizionano il funzionamento dell'istituzione e dell'amministrazione nel nostro Paese viene individuata nell'eccessiva ed artificiosa dispersione di numerose competenze e funzioni pubbliche aggravandosi dopo la riforma del titolo V della Costituzione, esito di una esasperata logica autonomistica, affermatesi negli anni 90 del secolo scorso non solo a livello territoriale ma anche funzionale. Ne consegue una severa analisi del sistema politico-amministrativo italiano, prigioniero di troppi particolarismi che lo condannano all'immobilismo e soffocano l'interesse pubblico generale, favorendo nel contempo il formarsi di nuove signorie e dal punto da rendere configurabile una vera e propria questione istituzionale. Il tutto accade mentre l'Unione Europea chiede garanzie sulla funzionalità e l'affettibilità degli apparati pubblici italiani per concedere i finanziamenti previsti della Revorfand, l'intento proseguito è quello di offrire non solo ai politici ed ai giuristi ma soprattutto a un'ampia platea di lettori verosimilmente disinformata e poco attenta alle vicende della res pubblica, una bussola per orientarsi nella comprensione dell'evoluzione nel nostro sistema istituzionale, dei suoi mali e dei possibili rimedi nella convinzione che per una sorta di eterogenesi dei fini oltre vent'anni di riforme lungi di semplificare hanno finito per appesantire il funzionamento delle istituzioni pubbliche del nostro Paese rafforzando ed interiori aspetti burocratici di un ridicolo e di privilegi non più tollerabili della collettività nazionale. Questa è la sintesi del suo libro che lei ha scritto tempo fa ma che veramente io ho cercato di leggerlo e dico che è molto interessante che fa riferimento durante la pandemia del coronavirus come veramente l'istituzione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica le grandi difficoltà che si è trovato di fronte e che siamo stati impreparati ad affrontarli. Io ho scritto questo libro durante il periodo più acuto del coronavirus perché mi è sembrato quello un periodo in cui si sono esaltati se così possiamo dire tutti i difetti del nostro sistema istituzionale che hanno complicato molto la possibilità di reazione depressiva reazione alle esigenze che venivano in emersione con il coronavirus ma il libro ha preso spunto da questa terribile vicenda per alzare lo sguardo a quello che è il nostro assetto istituzionale e dall'esame di quelle difficoltà ho cercato di enucleare i problemi che in qualche modo affliggono il nostro paese a livello istituzionale e che finiscono per complicare la vita dei cittadini per rendere difficile anche l'operato delle istituzioni di controllo quali è la Corte dei Conti e complessivamente fanno sì che a fronte di un elevato livello di tassazione che esiste nel nostro paese e che grava su di cittadini onesti che pagano le tasse vi sia poi un livello di servizi assolutamente non corrispondente alle tasse pagate in conseguenza del fatto che appunto il danaro pubblico si disperde in una miglia di dirivoli, talvolta parassitari e comunque non necessari all'espletamento delle funzioni pubbliche e ciò fa sì che poi il denaro che deve ai cittadini effettivamente molto poco rispetto a quello che si versa e che arriva nelle casse dello Stato il problema è sicuramente serio e fondato e se vogliamo ha trovato una risposta che io considero assolutamente inadeguata che è quella adesso dell'autonomia differenziata è un capitolo che io non ho solo accennato quando ho scritto il libro perché non era stata ancora approvata la relativa legge oggi abbiamo una legge che è stata approvata in Parlamento sulla spinta forte soprattutto del partito della Lega che sostanzialmente nel tentativo condivisibile ovviamente di ricercare una maggiore efficienza nel funzionamento dei servizi pubblici ritiene che questa efficienza si possa ritrovare essenzialmente si possa ritrovare attraverso una eccessiva regionalizzazione dei servizi pubblici anche in alcune materie in cui proprio l'esperienza della pandemia ha evidenziato che la risposta non può essere più nemmeno nazionale ma deve essere a livello globale in materia sanitaria per altri versi in materia di energia dove praticamente si pongono problemi che sono veramente continentali dopo la guerra russa-ucraina degli approvvigionamenti di energia nel nostro paese dove si pretende di risolversi a livello locale tutto sommato a me sembra una risposta molto egoistica che serve soltanto a mantenere gran parte il cosiddetto residuo fiscale a mantenere gran parte della tassazione nelle zone più ricche in cui c'è più produzione di reddito di tasse giustificando questo mantenimento della tassazione con un esercizio maggiore di funzioni pubbliche ma se così accade ovviamente nelle regioni più svantaggiate quali sono quelle ancora oggi quelle milionari nonostante gli dubbi segnali di miglioramento che si sono registrati negli ultimi tempi è chiaro che ci sarà minore possibilità per lo Stato di intervenire in maniera penequativa per aiutare i territori più svantaggiati i cittadini che vivono in questi territori mi sembra che proprio recentemente il Presidente della Regione Calabria abbia chissu una moratoria nella attuale questa legge proprio perché c'è la necessità prima di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni che per costituzione devono essere garantiti a tutti i cittadini da Lampedusa fino al Brennero senza i quali poi soltanto a seguito di questa individuazione dei LEP quindi delle risorse necessarie per dare a tutti i cittadini di questi LEP se residueranno possibilità di finanziare funzioni a livello locale si potrà introdurre l'argomento di una maggiore autonomia anche di determinate zone ulteriori ma è un discorso molto più ampio che mi sembra delivita questa osservazione di una inefficienza del sistema ma cerchi di correggerlo in una maniera che non è assolutamente condivisibile come ripeto nel libro ho cercato di dimostrare riferendo decine e decine di episodi di conflitti tra comuni, regioni, regioni, Stato, Stato, province e quant'altro che appesantiscono il funzionamento dell'amministrazione sostanzialmente non interessano più di tanto i cittadini ma finiscono per gravare sul funzionamento complessivo della macchina pubblica Dottore, nella relazione da lei preseduta come Presidente della Corte dei Conti emerge la necessità di un cambio di passo per la pubblica amministrazione dubbi sulla riforma dell'autonomia differenziata come lei stava dicendo con questa legge approvata senza essere stata neanche studiata e informare la popolazione, specialmente le regioni perché le regioni non sono state informate, non sono state spiegate che cos'è veramente l'autonomia differenziata l'hanno voluta a tutti i costi che questa autonomia venisse approvata e applicata allora io mi domando anche i tecnici ministeriali hanno avuto e hanno dei dubbi di questa legge differenziata infatti in questi giorni si stanno raccogliendo le firme per fare il referendum per l'abrogazione di questa legge che una parte del governo di maggioranza lo sta facendo lo vuole che questa legge viene abrogata allora io mi domando era necessario che si facesse questa legge che si attuasse veramente la riforma dell'autonomia differenziata? ovviamente questa è una decisione connotata politicamente e giustificata più sotto il profilo politico che giuridico io ripeto e qui in questo ci si viene a incrociare anche con quelle che sono le funzioni della Corte dei Conditi cioè certamente è forte la richiesta di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione di un uso corretto del denaro pubblico noi stiamo per arrivare a un deficit complessivo di 3.000 miliardi di euro ho letto che significa che per ogni cittadino italiano anche quelli appena nati c'è un faldone personale, un debito personale di 50.000 euro ovviamente è una condizione insostenibile sul lungo periodo che ci costringe poi alla continua emissione di titoli di debito pubblico per finanziare queste nuove mole di debito con il pagamento chiaramente degli interessi io credo da uomo delle istituzioni che quello che interessa a tutti gli italiani è avere un'amministrazione efficiente dovunque e l'amministrazione efficiente deve essere sicuramente frutto anche di scelte politiche scelte politiche che devono essere il frutto delle libere elezioni in cui i cittadini consapevolmente devono poter votare per partiti in base anche ai programmi che si rappresentano ma c'è anche da tenere conto che comunque c'è una struttura ci dovrebbe essere una struttura giudiziaria, una struttura burocratica che tutela i cittadini tutti i quali non sembrano la possibilità, il tempo, la competenza per andare a verificare come sono gestiti i danari pubblici ecco perché esiste fra gli altri oltre alla giustizia ordinaria anche la giustizia della Corte dei Conti che ha come sua funzione principale quella di tutelare l'usilizio del danaro pubblico e purtroppo devo annotare che in questo ad esempio nel mentre il legislatore molto si è dato a fare sul fronte appunto dell'autonomia sul fronte del funzionamento della Corte dei Conti la cui maggiore efficienza molto potrebbe giovare all'utilizzo, all'assaggio utilizzo del danaro pubblico invece ha avviato una serie di riforme che limitano molto le già non estreme grandi possibilità di intervento della Corte dei Conti sia nelle sue funzioni di controllo sia nelle sue funzioni giurisdizionali di recente ad esempio proprio nel periodo del Covid è stata emanata una norma che all'epoca della sua emanazione fu dichiarata una norma transitoria della durata di sei mesi ma che oggi tuttora è in vigore per una serie di prologhe che sono state poi votate da tutti i parlamenti che si sono succeduti in questo periodo che limita la possibilità di perseguire gli sperperi del danaro pubblico frutto di azioni gravemente colpose limita questa possibilità alle soli ipotesi in cui questi sperperi siano invece la conseguenza di fatti dolosi cioè di fatti di reato rimane così oggi e questo lo si è giustificato perché si dice che si doveva favorire la ripresa dell'economia italiana dopo il periodo del Covid ma sono passati quattro anni questa norma è rimasta ancora in vigore e ha una portata generale che finisce per creare una franchigia una zona di impunità per tutte quelle vicende che non sono penalmente rilevanti e che però al senso comune dei cittadini fanno di prezzo quando si individuano straordinarie negligenze che abbiano provocato danni alle radio abbiano provocato sperperi di agudio e ci tenevano sapere io questo denunziamo ma lo hanno fatto in tutte le sedi regionali quando ci sono state le inoculazioni dell'anno giudiziario corrente quindi alcuni mesi or sono denunziamo che è stata ulteriormente depotenziata la possibilità di reazione a questi sprechi della reazione della Corte dei Conti a questi sprechi quindi i cittadini devono sapere che oggi sono meno tutelati perché quando ci scrivono quando denunziano fatti che comportano spesa di denaro pubblico in maniera assolutamente improduttiva in maniera assolutamente connotata da imprutenza da negligenza gravissima da colpi inescusabili ebbene la legge non vuole che questi fatti vengano perseguiti alla Corte dei Conti creando così un sistema che facilita la mediocrità nella migliore delle ipotesi nell'esercizio delle funzioni pubbliche è un grave bonus io proprio come Presidente della Sessione Giurisdizionale Campania avevo ho rimesso insieme con i colleghi alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale di questa norma proprio la settimana scorsa è venuta fuori una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato compatibile con i principi del buon andamento della Costituzione queste norme purché ridotte come efficacia temporale mi è sembrato per la verità poco poco accettabile una giustificazione di questo genere perché l'efficacia temporale al momento è di 4 anni e c'è questa limitazione fino al 32 dicembre del 2024 si sono disegni di legge in corso di esame nel Parlamento che tentano di introdurre strutturalmente questo tipo di sostanziale eliminazione della responsabilità per i danni arrecati con colpa grave il che significa sostanzialmente con la giustificazione che c'è con questo il rischio forte è che si incendivi un'amministrazione che possa agire in maniera molto superficiale sbadata e non come invece dovrebbe essere un'amministrazione attenta responsabile che gestisca il denaro pubblico con la stessa attenzione con cui noi siamo soliti di gestire il nostro danaro privato Dottore l'errata riforma costituzionale amministrativa in chiave a livello di chiave federalistica come può essere interpretata questa riforma questa errata riforma costituzionale amministrativa Guardi nel 2001 fu approvata questa riforma del titolo quinto della Costituzione che io cito in più parti come diciamo la madre di tutte le conseguenze che abbiamo registrato negli ultimi anni fino alla legge di approvazione dell'autonomia differenziata che è una legge diciamo attuativa per certi versi delle previsioni che sono state inserite in Costituzione da quella riforma quella riforma cercò di tamponare all'onda all'epoca forte dell'autonomismo ma si inserisce male all'interno del nostro sistema costituzionale come è stato scritto in un'infinità di testi ha creato diciamo e questo per questo io parlo dell'Italia delle signorie ha creato ha trasformato in qualche modo le regioni in vere e proprie state lei sebbene non abbia ancora diciamo avuto un'attuazione totale già noi abbiamo diciamo una situazione che ripeto durante il periodo del covid è venuta fuori in emissione in maniera eclatante in tante occasioni con gente che pretendeva di mettere una sorta di dogana quasi fra una regione e l'altra diciamo è stata una norma e una legge che poi ha portato tutta una serie di conseguenze e peraltro nemmeno tutte sono ancora oggi visibili è una norma diciamo che fu ispirata da tendenze diciamo americaneggianti che si vedono oggi quando si parla dei presidenti della regione come di governatori non sta scritto in nessuna norma costituzionale dimenticando ovviamente che noi non siamo un paese che ha differenze linguistiche differenze di religione differenze etniche non siamo un paese di siamo un paese tutto sommato piccolo di 300.000 chilometri quadrati e volere inserire tutta una serie di normative locali con il potere legislativo conferito alle regioni finisce per creare tutta una serie di steccati e farci fare un passo indietro nel mentre il mondo va avanti e oramai noi dobbiamo essere sì federalisti ma federalisti europei perché oramai ci si muove in una logica molto più ampia che non è quella del piccolo camminire dal quale da una logica alla quale purtroppo non riusciamo ancora di staccarci ma sarebbe opportuno farlo proprio per dare una maggiore efficienza alla nostra amministrazione dottore l'errata riforma della privatizzazione del pubblico impiego una generalizzata logica aziendalistica quello guardi noi negli anni la fine degli anni soprattutto la riforma a Bassanini abbiamo avuto una serie di riforme oramai sono solo 20 anni che se ne vanno che però non mi sembra abbiano portato grandissimi miglioramenti nel funzionamento dell'amministrazione una di queste epocali è stata la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego cioè l'avere voluto introdurre diciamo quasi equiparare il rapporto di lavoro di quasi tutti i dipendenti pubblici a quello dei dipendenti privati e quindi una regolamentazione del rapporto di lavoro anche sotto gli aspetti economici di tipo contrattualistico ma mentre nel privato noi abbiamo un azionista abbiamo un imprenditore che ovviamente attendo anche a fare da controparte alle richieste dei lavoratori diciamo che devono trovare poi un eco condenveramento in sede diciamo di contrattazione sindacale in sede di contratti collettivi nazionali di lavoro nel volere privatizzare il pubblico quindi noi abbiamo abbiamo un po' dimenticato la parte pubblica l'interesse pubblico che comunque deve coesistere con le giuste richieste dei dipendenti pubblici e molto spesso diciamo io ho notato che la privatizzazione non ha portato un grosso cambiamento nel funzionamento delle amministrazioni ha soltanto provocato un aumento forte dei costi complessivi del funzionamento delle amministrazioni perché sono stati sono stati introdotti centinaia di figure dirigenziali cosiddette manageriali forme retributive incentivanti e quant'altro che difficilmente riescono ad essere ben gestite nell'ambito della pubblica amministrazione che comunque diciamo non trovano un contraltare in un inondatore di lavoro forte che deve anche tutelare in questo caso diciamo quelle che sono i propri interessi e l'interesse del datore di lavoro pubblico è quello di soddisfare innanzitutto l'interesse pubblico dei cittadini ad una buona sanità ad una buona scuola ad una buona giustizia e su questo non mi pare che queste forme nuove questa privatizzazione abbia avuto degli effetti effettivamente diciamo dirompenti così come forse ci si aspettava quando queste riforme furono introdotte è un altro elemento su cui un po' più di attenzione andrebbe posta perché mi sembra che oggi anche con lo smart working e quant'altro diciamo l'interesse al buon funzionamento dell'amministrazione alla fornitura di servizi da parte dell'amministrazione sia diventato eccessivamente recessivo rispetto agli interessi dei prestatori di lavoro pubblici pubblici dottore si sta parlando che fino al 2026 bisogna spendere i fondi del PNRR i tempi rapidi per l'utilizzo dei fondi sono un rischio per la qualità della spesa un altro grosso e un altro grosso problema innanzitutto diciamo bisogna partire dal presupposto che questi ingenti mole di capitali che l'Europa ci ha concesso oltre 210 miliardi di euro in questo periodo per due terzi è un prestito è un prestito che noi dovremmo noi e le generazioni che ci seguiranno dovranno restituire quindi per due terzi saranno o costituiranno un ulteriore debito che si andrà ad aggiungere a quei 3 mila miliardi che già ci sono e di cui ho parlato in precedenza ora a parte le considerazioni sull'opportunità o meno di siamo stati il paese che ha avuto la maggiore cifra di fondi del PNRR altri paesi ne hanno avuto molto di meno la Spagna ne ha avuto molti di meno e oggi la Spagna ha un'economia che sta camminando e in crescita in maniera nettamente anche superiore a quella italiana nettamente superiore alla media superiore a quella italiana senza dover necessariamente avere quella molla enorme di danari che invece noi abbiamo richiesto ed ottenuto e questo anche questo dovrebbe essere un elemento di riflessione perché ovviamente oggi viviamo in un momento in cui c'è l'economia italiana sta andando abbastanza bene perché c'ha tutti i finanziamenti dei fondi del PNRR cosa accadrà quando non ci sarà più questo è un punto interrogativo secondo i temi distritti che ci sono stati dati per spendere questi fondi costringono molto spesso a avviare progetti che non sempre soddisfano le esigenze pubbliche e comunque diciamo non sono stati adeguatamente né meditati né fatti oggetto di una normativa nazionale singente ricordiamo vediamo gli stessi problemi che stanno venendo oggi in inversione per quanto attiene all'utilizzo del cosiddetto dei vari bonus che sono stati inseriti anche in questo diciamo sempre su questa logica diciamo dell'implementare l'economia i bonus edilizi che stanno rivelando in moltissimi casi una truffa ai danni dello Stato molti progetti che vengono poi diciamo finanziati da l'Uni sono senza dubbio meditori e certamente avranno una ricaduta positiva nel nostro paese diciamo coprendo un gap infrastrutturale che specie nel nostro mezzogiorno spesso si registra ancora ma in molti altri casi per esempio nei progetti che sono stati avviati dai piccoli comuni che non hanno ovviamente nemmeno la capacità progettuale adeguata io vedo mi vengono segnalate realizzazioni di asilo nido in paesi dove oramai c'è una popolazione fatta tutta di anziani che oramai sono oggetto di spopolamento e certamente non sarà la realizzazione di un asilo nido e l'ennesima cennificazione a invertire questa tendenza in altri in altri casi per l'efficiantamento energetico si stanno abbattendo la cosiddetta rigenerazione urbana si stanno abbattendo edifici scolastici per rifarli da capo e anche edifici scolastici che erano in ottime condizioni quale è il risparmio energetico che avremo in zone in cui non c'era una edifici scolastici vengono utilizzati per poche ore al giorno magari 5 giorni su 7 e magari diciamo sono edifici che avevano già un certo livello di diciamo di non solo di sicurezza ovviamente che è la prima cosa ma di efficienza energetica in cui non c'era bisogno di tenere diciamo in qualche modo in funzione i pianti di condizionamento per una lunga durata per cui valeva la pena di abbattere e rifare un edificio dove già esisteva un buon edificio scolastico e così sono tanti altri casi che mi vengono segnalati che vedo che si rientrano in questa logica dell'utilizzo dei fondi del PNRR a tutti i costi e che un po' mi preoccupano perché potrebbero essere fondi utilizzati per realizzare opere di cui obiettivamente non si sente l'esigenza e che però contribuiranno a creare debito per le generazioni future che si andrà ad aggiungere al debito già esistente probabilmente anche questa è stata una scelta un po' avventata di volere utilizzare di voler richiedere un'enorme muove di fondi per la cui gestione non eravamo preparati anche lì poi ci sono state questioni problemi tra enti locali regioni lo Stato firme di protocolli e altri problemi che un po' hanno anche rallentato i tempi oggi si sta correndo ma non so se si corra sempre per realizzare opere effettivamente importanti per le collettività territoriali oppure si cerchi di spendere pur di spendere questa è una preoccupazione che spero sia infondata ma che purtroppo chi vede la finanza pubblica e la osserva con una certa attenzione e convenza è una preoccupazione che non può prudavise Dottore lei stava parlando di generazione urbana che condivido l'abbattimento di edifici scolastici in alcune nelle città in capoluogo di regione in capoluogo di provincia ma nelle periferie si sono dimenticati perché non si stanno non si stanno spendendo oppure non stanno arrivando i fondi del PNRR allora per spendere questi soldi e così aumento come lei stavo dicendo il debito pubblico che va a sommarsi con il debito che l'Italia ha nei confronti dell'Europa che va che va a sommare pur di spendere e di battere edifici di ottime condizioni quando questi edifici potevano essere potevano lasciarli oppure modernizzarli e dare quei fondi e dare quei fondi in alcune zone periferiche che non sono stati neanche erogati dei soldi dei finanziamenti del PNRR e probabilmente il problema era brutto nei tempi chiaramente diciamo là i fondi del PNRR sono stati dati per finanziare alcune missioni si chiamano tra cui appunto le missioni dell'efficienamento energetico e quindi ovviamente poi la gestione di questi fondi ha richiesto dove c'era la possibilità di procedere immediatamente alla realizzazione di alcuni progetti e all'incantiramento di alcune opere in altre condizioni diciamo i tempi erano tali da non consentire una più attenta analisi dei bisogni del territorio ripeto probabilmente sarebbe stato meglio ripeto seguire l'esempio della Spagna che ha avuto diciamo un terzo dei fondi italiani ha preso prevalentemente fondi europei scusate il bisticcio di parole a fondo perduto quindi soldi che sono stati erogati senza bisogno di restituirli ed è bastato un ridotto a montare di fondi per rimettere in moto un'economia virtuosa senza necessità di dovere attingere poi a ulteriori fondi che sono invece saldi dati a prestito e che comunque sono stati devono essere spesi in tempi rapidi con il rischio appunto che alcune zone non abbiano le competenze le possibilità per mettere in essere i cantieri per la realizzazione delle opere necessarie in altre zone invece si realizzano opere che non sono necessarie e il rischio quando c'è questa ingrovvisa valanga di spesa da dover effettuare è un rischio ancora una volta che non è stato adeguatamente valutato nel momento in cui si è ricevuto il si è trattato di questo finanziamento nel momento in cui lo stesso viene speso c'è una cabina di regia che cerca di garantire la migliore distribuzione dei fondi ma sicuramente i tempi ridotti e la necessità di diciamo rimanere nell'ambito delle missioni che il PNR richiede può comportare ulteriori spericuazioni fra zone del territorio può comportare anche spese di cui ci si poteva anche evitare l'ulteriore diciamo opera questo però lo vedremo ovviamente alla fine potremo trarre le conseguenze diciamo potremo trarre un bilaggio dell'utilizzo dei fondi del PNR il problema sarà che alla fine sarà tardi perché ovviamente ciò che si è speso e poi dovrà sarà stato speso e dovrà essere restituito ciò che cede la parte dei fondi del PNR che ci viene data gratis tutto il resto lo dovremo restituire come diceva il governatore Draghi speriamo che sia un ulteriore debito buono cioè un debito che ha generato una spirale positiva per l'economia nazionale e per i servizi che offriamo ai cittadini e che non sia invece un debito che lo stesso Draghi definì cattivo cioè quel debito che è nato per la realizzazione di attività e opere che non hanno avuto alcun effetto positivo sulla società italiana sulle nostre zone più diciamo arretrate gli esempi delle cosiddette cattedrali del deserto nel nostro mezzogiorno ne abbiamo ad esempio tantissimi però non ne facciamo adeguatamente tesori infatti come le diceva pur di spendere in tempi rapidi i fondi c'è rischio di scelte poco accorti c'è poco questo è la è la sintesi nessuno e non mi sembra che noi avessimo fossimo preparati a una gestione corretta adeguata efficiente di questi fondi il rischio ora si sta facendo salti mortali sicuramente però il rischio forte è che spendiamo parte di fondi verranno spesi senza riuscire a concretizzare poi quel salto di qualità che il PNR potrebbe darci ci potrebbe comunque dare ma ripeto questo è un'analisi che si potrà fare soltanto alla fine quando potremo capire quello che effettivamente è stato realizzato qual è il gradimento dei cittadini per ciò che è stato realizzato e qual è il costo a carico dei cittadini di queste opere di queste attività che in questo periodo si stanno ponendo un po' caoticamente in essere è vero infatti siamo preparati non siamo stati in grado di preparare e di formare dei tecnici all'utilizzo come utilizzare i fondi del PNRR oggi ci troviamo in una situazione pericolosa perché stiamo spendendo i soldi come lei stava spiegando dei edifici non solo quelli pubblici da abbattere da costruire quando non era necessario pur di spendere e aumentare il debito pubblico dottore la situazione economica non semplice del mezzogiorno impone a comportamenti pubblici e privati assolutamente rigorosi quali sono questi? guardi io dico sempre quando mi carica di parlare con gli amministratori e mi chiedono qualche consiglio su come diciamo agire di come orientarsi nel loro quotidiano operato che è difficile sia ben chiaro io sono assolutamente consapevole delle difficoltà in cui si muove un amministratore locale ai nostri giorni in cui diciamo c'è una ridotta disponibilità finanziaria per gli enti locali ci sono le richieste dei cittadini di servizi io dico questo che diciamo quando parlo di condotte vistuose mi interiso soprattutto al fatto di comportarsi da amministratori pubblici in una maniera rigorosa cioè nello stesso modo in cui ci si comporta quando si amministra il proprio danaro faccio degli esempi banalissimi capita tante volte abbiamo sentito parlare di acquisto di costi di silinghe a cifre elevatissime rispetto a quelle che sono le cifre correnti di mercato a quelle che sono le cifre che vengono acquistate in determinate zone in Italia e non in altre ecco io credo che un amministratore virtuoso e che abbia a cuore l'interesse pubblico debba su questo essere particolarmente attento debba porsi il problema diciamo se è conveniente o meno porre in essere un'attività e il parametro che deve avere come stella polare è quello della gestione del proprio patrimonio una volta si diceva che gli amministratori pubblici devono gestire il denaro pubblico con gli occhi dell'avaro è nel motto di un ministro delle finanze del regno d'Italia della fine dell'ottocento noi oggi non possiamo non vogliamo arrivare a queste diciamo esasperazioni però certamente pretendere che nella gestione del denaro pubblico si abbiano la stessa attenzione che sia nella gestione del proprio denaro per cui diciamo una siringa o una penna non la si acquisterebbe mai se la si dovesse pagare con i soldi propri perché se la si acquista con i soldi pubblici non si fa con una certa leggerezza e purtroppo ripeto oggi anche i casi eclatanti importanti costosi con queste norme che sono state emanate rischiano di rimanere assolutamente diciamo ingiudicabili e quindi con ulteriori rischi per quanto concerne la tenuta complessiva del nostro sistema finanziario pubblico fatto particolarmente grave nel nostro mezzogiorno dove avendo appunto una ridotta capacità fiscale quindi anche una ridotta possibilità di finanziare gli enti locali bisogna davvero diciamo gestire il denaro pubblico con assoluta con assoluta attenzione evitando soprattutto la creazione secondo me quello che pure è accaduto in questi anni la creazione di ulteriori forme di gestione amministrativa penso per esempio alla gestione dei servizi dedicati all'assistenza agli anziani ai disabili dove molto spesso diciamo parte dei finanziamenti vengono drenati da strutture ambiti territoriali figure professionali che non operano direttamente nell'erogazione dei servizi ai cittadini quindi dovremmo cercare di snellire queste forme diciamo di aggravare invece di appesandimento dell'attività amministrativa e ripeto soprattutto del nostro mezzogiorno anche iniziare a pensare ad una invece fusione di funzioni amministrative anche a livello di comuni non possiamo più permetterci di usso di tenere comuni con pochi centinaieri di abitanti che non hanno più personale qualificato nel proprio interno e quindi non riescono nemmeno a svolgere adeguatamente le funzioni che sono loro attribuite e qui c'è da rivedere un po' tutto il funzionamento della macchina amministrativa e secondo me in direzione sostanzialmente opposta a quella dell'ulteriore esaltazione dell'autonomia decisionale bisogna individuare centri di spesa sul territorio pochi ben strutturati con personale adeguatamente qualificato e anche con personale che però risponda agli eventuali utilizzi distorti del denaro pubblico in questo senso per esempio come dicevo anche del libro ma sono sempre un fotore mi sembra che la suppressione parziale delle province sia stato un altro tassello folle di organizzazione del nostro sistema istituzionale perché le province erano sono tuttora potranno essere rivitalizzate l'ambito territoriale ottimale per fare convergere in un ente di tradizioni tutte quelle competenze che non possono essere esercitate dai comuni e che oggi sono disperse tra decine di consorsi ambiti che sono stati creati e che hanno ulteriormente appesandito il costo del servizio e sottratto al servizio stesso una parte del denaro che adesso era stato demandato quindi secondo me è questa la linea da perseguire quella della vera semplificazione delle strutture amministrative sul territorio perché i cittadini non hanno secondo me una particolare interesse a vedere diciamo che un determinato servizio sia stato fornito dal comune dalla comunità montana dal consorzio degli acquedotti dal consorzio dei rifiuti dal consorzio in cui vogliono che il servizio sia fornito bene e quindi riuscendo a riorganizzare questi servizi si riesce a avere una riduzione delle spese e un efficientamento del servizio a tutto vantaggio diciamo dei cittadini e della ripresa di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni fiducia che purtroppo in questi anni si è andata costantemente abbassando come dimossano oramai ridotte percentuali di cittadini che si legano al voto durante le elezioni e nonostante siamo rimasti uno dei pochi paesi al mondo in cui si vota addirittura per due giorni di seguito dottore l'ultima considerazione poi la lascio perché il nostro tempo a disposizione sta per terminare l'ultima considerazione il ponte sullo stretto e guardi le dico le dico la mia verità diciamo qui stiamo parlando su di una televisione diciamo della Calabria io sono particolare io non tecnicamente non posso esprimere alcun giudizio perché ovviamente non ho alcuna competenza ma da uomo diciamo delle istituzioni sono diciamo abituato a pensare che ci sono stati degli organi che hanno studiato il piano di fattibilità probabilmente forse un tunnel avrebbe avuto un minore impatto ambientale certamente ma se esistono le possibilità tecniche di realizzare un collocamento fra la Sicilia e la Calabria io credo che noi lo dobbiamo lo dobbiamo a tutti i costi perseguire perché innanzitutto sarebbe un volano straordinario per l'economia delle regioni meridionali beh poi perché non è concepibile che per tre chilometri di mare bisogna continuare a fare tutta una teoria di file traghetti in barchi e sbarchi quando in tutti i paesi anche in quelli che sono connotati da forti sismicità come è il Giappone ad esempio ma anche la Turchia sono stati realizzati collegamenti stabili più o meno simili a quelli che ci si propone di realizzare e mi sembra diciamo quindi che sia giunto l'ora per realizzarlo anche nella nostra punta interiore del nostro paese e perché poi sono convinto che questo sarebbe un volano diciamo per l'economia di tutto il mezzogiorno perché sarebbe diciamo trainerebbe l'efficientamento e il miglioramento della rete ferroviaria siciliana di quella calabrese secondo me diciamo potrebbe se ripeto come io immagino perché oramai si è in fase avanzata di avvio dell'incampieramento dell'opera se il gota dei tecnici nel nostro paese si sono espressi per la concreta fattibilità dell'opera credo che dobbiamo abbandonare ogni regola e pensare al futuro ad un'opera che rilanci a livello di rilanci la nostra economia la nostra immagine e che possa avere una enorme valenza economica e turistica per tutto il nostro mezzogiorno per cui diciamo ecco è una di quelle opere in cui investirei perché credo che potrebbe essere veramente la chiave di volta della storia del nostro mezzogiorno salutiamo il presidente della corte dei conti il dottor michelo ricchio per aver partecipato al nostro programma 60 news grazie dottore per la sua partecipazione a nome mio a nome della redazione grazie grazie di cuore grazie a voi due grazie a tutti e a tutti gli spettatori grazie rimanete sul canale 13 per proseguire i nostri programmi di telemia grazie ancora e buona serata questo programma è stato presentato da pubblicità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti